Vedete, un fiume scalfisce le rocce non perché è potente, ma perché è persistente. Quindi cosa facciamo noi quando crediamo di voler mollare? Scaliamo un po' più a fondo! E cosa facciamo quando noi non riusciamo più ad andare avanti? Scaliamo un po' più a fondo! E cosa facciamo? È abbastanza profondo. Beh, Selina, devo dire! Non devi dire nulla! Selina! Selina! No, lasciami! Basta! È finita! Ceremaia! Dobbiamo andarcene subito. No, no, no.